Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il WWF hanno presentato le prime azioni messe in campo per la conoscenza e la tutela dell'orso Bruno Marsicano. Azioni che stanno avviando nel territorio del parco, area di espansione dell'orso. Sono sempre più numerosi infatti gli avvistamenti con gli ultimi episodi a Rocca Calascio. Il presidente del Parco Nazionale, Tommaso Navarra, e il delegato regionale del WWF, Filomena Ricci, hanno spiegato che intanto sono state messe in sicurezza tre basche a Isola del Gran Sasso. Strutture pericolose, queste per la fauna selvatica, che già hanno provocato la morte di cinque orsi. È stata firmata per questo una convenzione apposita tra Parco e WWF, ma anche con l'amministrazione separata di Paiara e i carabinieri forestali di Isola, per avviare una sinergia sempre più operativa. Il corridoio ecologico creato negli anni 90 e che unisce il Parco Storico d'Abruzzo, Lazio-Mile Molise, il Parco della Maiella, il Parco Gran Sasso-Monte Alaga e risale attraverso i Sibillini fino a Castelluccio di Norcia, ha il funzionato. In particolare stimiamo la presenza oggi di due o tre esemplari diversi e questo ci fa anche benesperare per la strutturazione di un nucleo riproduttivo. Essenzialmente partecipiamo a una struttura che si chiama Hile Paton e che monitora scientificamente la presenza. Più, insieme a meritori e associazioni come il WWF Italia, abbiamo stipulato una convenzione per azioni Hile sul campo, sia di divulgazione, sia di presentazione della matrice ambientale alle popolazioni e il rilievo anche di interazione necessaria col dato antropico e il sia di protezione rispetto a pericoli esistenti sul territorio. Diverse le azioni che si metteranno in campo a partire da una sensibilizzazione della popolazione che deve sapere come comportarsi in caso di incontro con l'orso. Ci saranno giornate di volontariato con escursioni per la conoscenza e la rilevazione dei segni di presenza della specie. L'orso Bruno Marsicano è una sottospecie unica al mondo, presente solo nell'Appennino centrale. Dal nucleo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise questa specie sta cercando di espandersi in altri territori. Ovviamente deve essere accolto, il territorio va preparato perché si possa pensare a una possibile convivenza. È quello che stiamo facendo anche con la convenzione messa in campo con il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e con la campagna Orso 2x50 del WWF. Grazie a tutti.